Tutti su, tutti su, e due, e tre, e tre, e vai, e quattro, bellissimo, un applauso, tutti in carriola, guardate che roba, bellissimo, ma voglio dire, lei gira in città in questo modo qui, e là, aspetti perché questa cosa qui non capita tutti i giorni, mi creda, e direi che questo, eh? Ah, fermi lì, bellissimo, non sento l'applauso ma po' che ha meritato, ora l'ho sento, perché se finalmente... perché io questo non è per vanità, però questo noi lo mettiamo sul giornale, per perché sicuramente sul carlino, perché sono cose che non ci sono mai. Allora, vogliamo solo sapere i nomi. Questo è Cativeria, inavvicinabile perché purtroppo non è cresciuto dalla Cativeria, poi abbiamo Tomassino, questo qua davanti, il capo squadra che è quello che ha sofferto di più ed è il preferito, poi abbiamo dietro la Lilli, la piccola da Oppermann e la Bebetta. Benissimo, è in Cariola. Sono sempre così silenzioni? Ho capito, però a me piace quello. e ha detto che si chiama Cativeria? Va bene, allora direi che siamo a posto, lei è stato... e ha superato l'urma del lupo, bravo! No, soprattutto perché ama gli animali, io me ne sono accorta veramente, in una maniera straordinaria, e gli animali lo fanno. Lei può liberarli? Andare, andare! Tutti liberi! Correre! Dai Cativeria che anche tu puoi scendere! E' difficile mettere e dare una votazione a questi cani, eh! Andiamo a casa a preparare la pappa! Dai Cativeria! Cativeria che è stupendo! Andiamo!